E parliamo di basket, prosegue con qualche problema la preparazione dell'Enel Brindisi in vista del match di domenica a Varese per il primo turno di ritorno di Lega A. Ieri allenamento a ranghi ridotti per le assenze di Robinson, Doia e Fulz, guai fisici anche per Vigiano. Da domenica inizia il girone di ritorno di Lega A. Così come a settembre scorso l'Enel Brindisi è attesa da un avvio da brividi per le difficili partite contro le più forti squadre del campionato. Bucchi non vuole sentir parlare di altro se non di salvezza e i suoi sforzi sono indirizzati proprio a mantenere alta la concentrazione e la determinazione. Purtroppo in questa fase molto delicata della stagione il team Brindisi non deve fare conti anche con un po' di sfortuna visto che ieri durante l'allenamento a porte aperte erano assenti oltre a Capitan Doia anche Robinson che ha accusato martedì un piccolo infortunio e Robert Fulz alle prese con l'influenza. Per lui davvero un periodo poco felice anche Vigiano che invece sta attraversando in queste settimane un ottimo stato di forma ha dovuto fare ricorso alla borsa del ghiaccio per una botta ad una gamba al punto che ha dovuto interrompere l'allenamento. Bucchi in virtù di tutto questo ha deciso di spostare l'odierno unico allenamento dalle 12 come previsto alle 18 proprio per dare il tempo agli acciaccati di recuperare. Ieri ha dovuto fare ricorso a sei juniores per condurre un allenamento decente. A Varese pertanto l'Enel non si presenterà nelle migliori condizioni, anche i lombardi non saranno al massimo della loro prestazione viste le assenze di Herr e Banks e la sconfitta interna di domenica contro Venezia ha dimostrato come la capolista stia soffrendo questa situazione deficitaria. L'Enel Brindisi come dicono i numeri delle statistiche al giro di Boa continua ad avere il terzo migliore attacco del campionato la migliore percentuale nel tiro da due punti, la terza nel totale dei tiri. Male invece nei tiri liberi, dodicesima nei tiri da tre punti al settimo posto dove invece Varese è al primo posto e ai rimbalzi al penultimo posto. Equilibrio tra Enel e Varese nelle palle recuperate, i lombardi al primo posto, Brindisi al quinto dove l'Enel non ha rivali e nelle stoppate, è la squadra che ha dato più stoppate di tutti e ne ha preso meno di tutte le altre squadre. Intanto dalle altre sedi giunge la notizia dell'arrivo della guardia grega Zalda, Rizza, Biella e di Cesare Pancotto, nuovo allenatore di Avellino. Ed è tutto per questa edizione, vi ringrazio per la cortese attenzione, arrivederci. Grazie 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 Grazie